In questo caso mi hanno detto, ah beh, Amanda Condori è tra famosa, poi ragazzi guardate, ho avanti una cartina, parli tra i bisciuti al giorno, gli argomenti di internet, nessuno le dava una lira. In realtà ha poi avuto un grande successo, come lei in moltissimi altri casi. E io, se dovessi dare un consiglio per chi poi vuole entrare nel mondo di lavoro, qualcuno vuole fare un giornalista in sala, c'è qualcuno? Uno, beh, è una buona mese, complimenti agli altri perché è una carriera definitiva. Benissimo, allora, giornalismo, è molto interessante. Che consiglio daresti, in realtà poi siamo simili alla mattina, che consiglio daresti a un ragazzo che vuole cercare di fare giornalista, cercare di fare informazioni oggi, quali sono secondo te le qualità da avere? Io la premessa che faccio è che quando parlavamo di in siti del giornale, del porto diffuso, giornalismo amatoriale, dobbiamo sempre sottolineare il fatto che questo integra il giornalismo amatoriale.